La Lega è l'unico movimento che a livello nazionale cresce, sto parlando con una media di voti l'unico, addirittura i 5 Stelle non crescono, guadagniamo 39 comuni in più amministrati dalla Lega Nord, 21 comuni in più a guida Lega Nord, penso un buon risultato dappertutto, ci sono state alcune criticità, l'esempio di Varese non c'è dubbio, e penso che si possa tradurre però in forse delle scelte sbagliate territoriali e personalmente non vedo la debacle della Lega a livello elettorale, dopo che discutiamo sul futuro del centrodestra e quello che faremo il 25 a Parma, quindi questo sabato a Parma, però non vedo assolutamente criticità da questo punto di vista. Ovviamente Federica, però noi vediamo dall'altra parte, o se vuole siamo delegati e lo facciamo volentieri a fare domande, talvolta ci può essere anche la domanda, l'ho premessa un po' cattiva, però vediamo, Bossi torna e attacca e dice Salvini ha perso, adesso serve un congresso. No, no, ma infatti guardi, non è che volevo rispondere a lei, volevo rispondere a queste affermazioni. No, 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 Federica ci mancherebbe, Salvini dal primo minuto, rispetto a come eravamo abituati che non c'era mai nessuno che perdesse, questi sono stati i risultati che hanno visto gli uomini leader dei propri partiti dire non siamo contenti di come sia andata, non è andata bene, questo già è un grosso passo in avanti. Ma io sono d'accordo su questa linea di dire quando le cose non vanno bene e dire che non vanno bene, però io adesso ho espresso dei dati che mi sembra che le cose non siano andate bene, è semplicemente questo, quando andranno male dirò sono andate male. Io le chiedo, no, 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 ma ci mancherebbe altro, le chiedo come va con Salvini all'interno della Lega, se si è formato, guardi perché la domanda anche per il Presidente Rossi, un gruppo di 30 persone, vediamo cosa accade in un'assemblea di condominio, auguri a quando si deve gestire la politica, è cosa difficile. Nella Lega in questo momento c'è chi si sta dividendo da Salvini e chi è a favore viceversa della linea tenuta da Salvini, questa è la succo della domanda? Sì, guardi, penso che almeno le dichiarazioni che anch'io ho visto, perché poi anch'io l'ho scoperto dai giornali queste dichiarazioni, ma non le vedo come qualcosa di preoccupante, ricordo che Matteo Salvini è la persona che ha portato la Lega dal poco più del 4% ad ambire, ad essere un leader di una coalizione di centrodestra a livello nazionale, quindi ecco, io la leadership di Salvini non la vedo assolutamente in discussione. Penso invece che sia necessario fare una riflessione sul futuro di centrodestra, questo sì, non c'è dubbio. L'esperienza, mi scusi se uso questo termine, ma del moderatismo esasperato o dell'estremismo del moderatismo, e l'abbiamo visto a Milano, dove tutto va bene a tutti, dove qualsiasi cosa è giusta, dove ci si confonde con il centrosinistra, non penso premi, perché nell'elettorato questo estremismo moderato porta soltanto confusione, non si fa capire cosa si vuole e cosa si vuole con il futuro dei propri cittadini. Cioè, secondo voi Parisi non ha interpretato il vostro messaggio politico? Penso che non abbia motivato tutto quell'elettorato di centrodestra che vuole una politica diversa da quella che propone il centrosinistra, è ovvio, altrimenti ci sarebbe il candidato unico. Penso che quando a Milano si prende distingo e il candidato sindaco continua a distinguersi dalla coalizione di centrodestra per avere punti di contatto con quella di centrosinistra, penso che ci siano dei problemi. Penso che quando si intersecano troppe cose, come dicevo prima, si crea confusione, tutto va bene, non c'è una chiarezza di programma, ma questo appunto per essere moderati, il moderatismo vuol dire che va tutto bene, qualsiasi cosa è giusta, qualsiasi cosa la condivido, è un problema. Questo del moderatismo gliela rubo, gliela rubo a lei Federica. L'estremismo moderato. L'estremismo moderato. Allora, la fine...